Il rendiconto finanziario è obbligatorio per le aziende che dovranno provvedere anche alla redazione del documento economico a partire dai bilanci del prossimo anno. È stato questo il tema trattato nell'incontro organizzato presso la sede dell'Urdine dei Duttori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli Nord ad Aversa. Il rendiconto finanziario entra a pieno titolo così in quello che è il bilancio d'esercizio delle aziende, dei documenti del bilancio ed è un documento particolarmente importante per le aziende perché consente la valutazione del merito creditizio. Dedichiamo il rendiconto finanziario che è un attempimento reso obbligatorio da quest'anno ma anche negli anni precedenti era una sorta di bilancio finanziario che veniva comunque redatto dalle società commerciali e da oggi invece è obbligatorio e dà delle notizie diverse, dà delle informazioni diverse per cui il lettore del bilancio ha delle notizie che possono essere poi integrate con la lettura del bilancio vero e proprio. E noi ci avviamo sempre sulla strada dell'aggiornamento continuo nell'informazione che diamo ai nostri colleghi oltre che per l'aggiornamento obbligatorio e per la maturazione dei crediti obbligatori anche come informazione e come formazione professionale anche perché sono momenti importanti e sono momenti in cui noi dobbiamo esprimere tutta la nostra professionalità e dobbiamo esprimere tutta la nostra maturità professionale e la consulenza che noi possiamo dare poi alle nostre assistite deve essere a 360 gradi quindi deve essere integrata anche dagli atempimenti immediati e da tutto quello che serve per meglio leggere, interpretare e valutare il bilancio delle società commerciali. Il rendiconto finanziario entra a pieno divitto e a pieno titolo in quello che è il bilancio di esercizio delle aziende, nei documenti del bilancio ed è un documento forse ancora non pienamente tenuto in considerazione dai colleghi ma perché probabilmente l'obbligo incomincerà a decorrere dall'anno prossimo, cioè sarà dall'anno prossimo che dovrà essere inserito nei bilanci che tutti quanti andremo a depositare. Un motivo in più per incominciare già da quest'anno a fare i conti con questo nuovo documento anche per il raffronto poi con l'esercizio successivo. E' un documento importante questo per le aziende anche per consentire la valutazione del merito creditizio quindi è un documento che non deve essere assolutamente sottovalutato. Oggi i colleghi della commissione si confronteranno con i colleghi proprio per la redazione e stesura di questo importante documento. Sporre ai colleghi questo nuovo strumento, questo nuovo documento del rendiconto finanziario che viene visto, deve essere visto secondo me anche nell'ottica di un'opportunità di lavoro e di un'opportunità di dimostrare la professionalità che noi commercialisti abbiamo nel trattare questo argomento. E' un'opportunità di lavoro anche di apertura nei confronti degli istituti di credito e nei confronti del mondo finanziario perché l'aspetto bilancissimo logistico numerico che è sempre stato come dire di nostra competenza viene allargato a quelli che sono anche i riflessi finanziari che il documento contabile bilancio deve dare. Deve dare soprattutto nell'ottica di una chiarezza, del principio di chiarezza, del principio di veridicità, di correttezza che ci viene imposto non solo dal legislatore italiano ma anche dalla normativa europea. Una innovazione che partirà dal 2016 e riguarda proprio la modifica dell'articolo 24-25 del codice civile che ha introdotto un nuovo elemento, una relazione che deve essere inserita all'interno della stesura dei vari documenti contabili da presentare presso i vari enti, tra cui Camera del Commercio, tra cui ovviamente verso i vari istituti di credito finanziari. Si tratta proprio della problematica riguardante il reddiconto finanziario, già operativo per le società che hanno un bilancio consolidato ma dal 2016 diventerà operativo per diverse categorie di imprese che sono obbligate alla presentazione del bilancio presso le Camere del Commercio.